buonasera a tutti i ragazzi e bentornati al canale b world 2.3 allora che cosa parleremo beh parleremo di un video parecchio importante di che cosa il festival di sanremo anno 2024 che posso dirvi e si me lo ricordo il 2023 schifo da vomitare proprio inguardabile beh alcuni ci sono riusciti a rendere il festival qualcosa di buono mentre altri proprio scenità disgustoso ma il 2024 è stato davvero un anno bello però qualcuno ha voluto peggiorare esagerare chi il pubblico e i giornalisti e man mano vi spiegherò i vari motivi innanzitutto vi riassumo riguardo al festival di sanremo anno 2023 come sia andato e poi cominciamo e con il festival dell'anno nuovo ovvero questo qua anno 20 24 d'accordo quindi quello che posso fare è augurarvi una buona visione naturalmente cosa avevo fatto sì questa era l'introduzione che avevo fatto io riguardo al festival di sanremo dell'anno 2023 sì ero raffreddato si vede e qui ho discusso che non è stato bello è stato uno schifo attiosceni qua e eccetera eccetera che dire qui avevo spiegato che il festival l'aveva vinto marco mengoni con la canzone due vite e avevo detto che è stato uno schifo perché ci sono stati attiosceni impropri qua al pubblico addirittura però il contrario del festival di quest'anno è stato bello che ha fatto schifo e il pubblico e anche i giornalisti a dare la mano scrivendo cose che non sono vere poi vi spiegherò tutto nei minimi dettagli ma prima voglio riassumervi riguardo a questo qua di sanremo 2023 cioè dell'anno scorso qua è vero che è stato propriamente alcuni cantautori a fare certe cose ma il 2024 la gente è proprio a lamentarsi vedere cose che non sono poi giornalisti scrivendo e inventandosi qualunque fonte che non sia vera per quanto riguarda il festival del 2023 sono stati alcuni cantanti come mr rain supereroi ah e la cosa più importante la rappresentazione di roberto benigni dell'articolo 21 la costituzione che ora andremo a vedere e vi spiegherò tutto nei minimi dettagli d'accordo ed eccolo qua il nostro caro roberto benigni che è lui il protagonista della vita beh è bella riguardo al giorno della memoria beh a parte questo parliamo di questo la sua rappresentazione dell'articolo 21 ovvero che questo articolo significhi che uno può esprimere la propria libertà di pensiero libero cioè che ognuno può pensarla come vuole e esprimere il suo parere davvero una bella rappresentazione ha fatto ha fatto però peccato che non vi ho mostrato il video perché altrimenti c'è causa di copyright quello è stato il motivo bene adesso vi mostrerò quello che ha fatto la scenata di blanco distruggendo i fiori sul palco e naturalmente che dire della scenata di blanco sapete qual è stato il motivo perché non sentiva la cuffia perciò qua ha distrutto tutti i fiori sul palco divertente ma anche troppo eh sapete quando può costare tutte quelle rose parecchio poiché Sanremo è con i fiori giusto però ad oggi nell'epoca moderna si fa con gli effetti tecnologici speciali le scenografie del teatro dell'arison poi l'amadeus ha commentato riguardo su blanco distrugge sul palco non sentivo beh la mia voce in cuffia questo è stato il motivo per cui ma questa non è un'ottima scusa per fare il pazzo poi naturalmente si sarà drogato per fare sta cosa così e non solo vi ho mostrato anche una parte del video che ha fatto che adesso andremo a vedere insieme che dire di chiara ferragni che tra l'altro ora si trova in un modo di guai dopo la scenata del panettone che ha voluto fare lei e cosa poi forse ve ne parlerò a parte ma ricordo al festival qua le donne non posso vedere veramente il corpo perché le nascondo sono delle suore se le mostrano ovviamente questa scena sembra come se stesse andando nel festival senza vestiti ma dice che è un simbolo poi qua quello che ha indossato rappresenta qualcosa al satanismo nel collo non solo questo ma anche altro questo è quello che pensa il pubblico non è che la rai ha menzionato una cosa del genere infatti qua chiara ferragni con la collana utero a saremo l'accesso all'aborto è un diritto umano come simbolo ma il pubblico che può pensare a malintesi qua il festival dei satanisti ho sentito dire da alcuni nei commenti perché ogni tanto io mi leggo i commenti di certa gente che non capisce quindi sono della mia curiosità sì certo ho fatto un simbolo ma non è solo questo adesso vediamo un atto davvero scena da parte di fedez e rose chemical dei maneskin ecco qua il visto è la combinata grossa e tra l'altro adesso vi mostro il video quello che ha fatto fedez visto questo è stato l'altro scena tipo questo qua di un godimento sensuale riguardo le specie di uomini antiche uomo e donne ma purtroppo per fedez che l'ha combinata grossa la ferragni dopo lo ha diciamo cosa rimproverato guardate qua è la scena del bacio si era fatto addirittura un intervista e ha confessato tutto che ha combinato un bel casino infatti avete visto prima il video e anche la tv che la ferragni era arrabbiata ma cosa hai combinato era davvero furiosa infatti ora guardate qua su facebook la notizia della reazione di fedez che piange che sua moglie lo aveva abbandonato qua qua ora arriva qui cacciato di casa la reazione di fedez per quello che aveva combinato praticamente anche se dopo c'è un'altra versione che si siano perdonati tutto o perché rischia ha rischiato di perdere la moglie e i suoi figli di quello che ha fatto cerca di controllare il tuo temperamento sei un bravo cantautore ma certe scenate è meglio evitarle soprattutto atti sessuali gay con un altro anzi fra uomini e soprattutto se sei sposato altrimenti rischi di rompere con lei no e caro fedez alla fine ci sei riuscito di nuovo a fare pace con tua moglie chiara e anche lei quest'anno a quella scena da col panettone che forse in un video a parte vi racconterò ha rischiato davvero grosso per quanto riguarda qua del festival si sono perdonati al quando pare qua alla fine dopo tutto anche se quello che ha fatto suo marito non è stato non gli anzi non gli è piaciuto a chiara infatti la tv ha detto ma che cosa hai combinato ha fatto bene a dirlo non è che devo fare quello comunque non è finita qui adesso dopo l'atto di fedez o sceno ritorna di nuovo a parlare di blanco ah no prima dimenticavo qua chi ha vinto il festival a mengoni della sua canzone due vite è stato bello almeno roberto benigni mengoni e mister rain assieme ai bambini super roi la canzone hanno fatto qualcosa ma gli altri proprio schifo oh eccolo qua di nuovo a parlare di blanco e di nuovo perché ci sono conseguenze per l'altro che ha fatto beh non è tanto sceno però è da pazzi ti sembra normale e poi ci vuole la canzone di max gazette ti sembra normale che ti descorteggiare per ore bella quella canzone comunque comunque tornando a noi quello che ha fatto non è così tanto peggio di quello che ha fatto e fedez con rose che amico dei maneskin ma qualcosa che non avrebbe dovuto fare poi qua il commento di aurora romazzotti nella sua live video su quello che ha fatto blanco quello che è successo sul palco a meno in parte sarebbe stato preparato in anticipo siete d'accordo la figlia di michelle anche michelle duskin beh non ricordo tanto bene comunque ho scorso nei commenti poi c'è stata qua pace fare il fenomeno con le rose blanco vieni a fare lo stesso in sicilia con fichi d'india così di sfini e poi visto tutti i commenti che mi sono visto alcuni li ho letti alcuni li ho evitati ma sta cosa non mi è piaciuta affatto ve lo dico ben chiaro eh riguardo a quello dei fiori che poi sarà cosa saranno costati parecchio perciò la scusa perché la cuffia non si sentiva inventate un'altra perché solo perché la cuffia non non si sentiva l'audio non vuol dire che fa il pazzo a distruggere i fiori ed eccolo quasi signor rain mister rain qua nome d'arte questo ragazzo che ha fatto una bella canzone super eroe assieme a dei bambini come lo era nel video stesso e anche lui ha diciamo reso il festival un po più piacevole rispetto ad altri non come ha fatto il primo di tutti blanco con i fiori le rose quello che poi lato osceno di fides con rose chemical dei maneskin atti sessuali gay perché è fra uomini ragazzi maschi insomma cose tra maschi bisessuali e non è appropriato diciamo a farlo nel pubblico ma sapete quale sarebbe stata la cosa peggiore se avesse cantato mister rain a quel momento e i bambini avrebbero visto queste cose a parte della canzone anche a casa il pubblico a casa se ci sono i genitori a guardare il festival e ci sono anche i bambini vedono queste cose e si farebbero parecchie domande poi domanderebbero a mamma e papà ma cosa stanno facendo e normalmente i genitori che cosa dovrebbero fare non devono spiegare trovare cose adatte alla loro età spiegare insomma imbarazzante ma poi dico come gli è venuto in mente a parte che fides ha rischiato di rompere con la ferragnez da quello che ha fatto infatti la rai del tg ha detto ma che cosa è combinato e ha fatto bene poi te che parli per lui questo natale l'hai combinata grossa col panettone e come vi ho già detto sarà meglio che vi spieghi in un video a parte per quanto riguarda la scenografia esatto un'astronave era ma attenzione infatti sotto indese non aliena non c'entra niente gli extraterrestri però nel 2024 qualcosa c'è e poi vi spiegherò il motivo poiché la scenografia ha il volto di un alieno ma poi ne approfondiremo per quanto riguarda il festival del 2023 è questo sì esattamente un'astronave ma che cosa significa quest'astronave semplice siccome oggi viviamo in un mondo di guerra odio e di tutto abbiamo bisogno di andare via da questo pianeta e andare in un nuovo mondo migliore rappresenta a noi questa astronave non che rappresenti gli uomini verdi noi che desideriamo andarcene verso un posto migliore rispetto al pianeta terra che ormai non è più come una volta è cambiato parecchio tra l'altro ci scanniamo fra noi a farci la guerra come se fossimo animali praticamente e allora per quanto riguarda l'astronave ho fatto un confronto esatto ci somiglia bene ho chiarito tutto quanto riguardo a questa cosa qua del festival del 2023 adesso passiamo al festival dell'anno 2024 che è stato meglio rispetto all'anno scorso una terra su me un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri noi non ci fermeremo non ci stancheremo di cercare il nostro cammino bene eccomi qua e cosa vi spiegherò riguardo è prima vedete mi direte come mai ci avresti aggiunto qui gli alieni e gli avete visti prima della sigla dell'inizio beh perché c'è qualcosa a parte la scenografia c'è stata anche la canzone da parte di gali che adesso andremo a vedere assieme facendo anche chiarezza su alcuni malintesi e con brottismo addirittura anche sul festival che vedono cose che non sono che si faccia qualcosa al satanismo e roba del genere quindi diciamo che il festival quest'anno è andato meravigliosamente però chi ha voluto peggiorare le cose sono il pubblico e i giornalisti a dire queste cose poco sensate e facendo confusione allora quando riguarda gli extraterrestri non è la prima volta che io inserisco qui in questo video riguardo al festival del 2024 l'anno scorso gli ero inseriti così tanto per combarsa visto che c'era il tema dell'astronave però l'astronave raffigurava noi ovvero andando in un posto migliore però diciamo che questo anno ci stava e a parte di questo discuteremo riguardo alla scenografia il volto stavolta non è un'astronave ma qualcosa che qualcuno potrebbe riconoscere dopo ve lo spiego intanto vi dico com'è andato il festival e la prima puntata è andato non dal 6 febbraio è finita il 10 febbraio e visto ci sono stati parecchi cantanti e visto qua il video di gali casa mia che qui rappresenta con un extraterrestre qui riguardo la diversità eccetera poi che ha vinto il festival e angelina mango che approfondiremo assieme sulle cose e anche mahmood che ha raccontato la sua storia attraverso la sua musica cantando tutta gold comunque è stato bello il festival prima di intro anche i ricchi e poveri che sono davvero non trovo le parole però è dagli anni 60 e sono ritornati a volte hanno vinto il festival però questa volta si chiama ma non tutta la vita e questo titolo della canzone rappresenta i loro successi riguardo agli anni d'accordo bene prima di procedere con la prima puntata e la classifica beh andiamo a vedere che cosa c'entra questa scenografia sul motivo perché si dica che sia un volto di un alieno ma non alieno qualunque nella cultura popolare i classici omini verdi chi i grigi per quanto riguarda la scenografia sì è vero volevo introdurvela all'ultimo come ho fatto con il festival del 2023 ma visto che stiamo parlando tanto di un qualcosa di strano e che cosa rappresentasse che anche sì lo so sono appassionato sulla vita qua dello spazio però per me è qualcosa di insignificante se fai una scenografia dovresti rappresentare un motivo giusto no allora che cosa vediamo beh a dirla tutta sembra degli occhi vero poi una testa e ora ve lo faccio vedere da dove ho notato quando ho visto facebook a caso ecco che cosa si è paragonato il volto qui propriamente esatto guardate attentamente visto quello che ho trovato è il volto del festival è questo qua che cosa vi sembra un alieno ma non uno qualunque ma i più rappresentati ci stiamo parlando degli omini verdi gli iconici grigi e bassetti qua sono testa enorme e due occhioni a mandorla infatti c'è il logo più raffigurato vero esatto quando vai a scrivere tipo su google o wikipedia qui extraterrestre o alieni ti da questi qua non è che ti da tutte le razze tipo rettiliani o marziani o altre cose varie riguardo a questo tipo di razza aliena non sono marziani e nel senso tradizionale che provengono da marte ma proverebbero da un sistema esterno al sistema solare perciò stiamo parlando di distanza anni luce no e questo sarebbe il tipo di razza aliena molto comune iconicamente popolare e le navicelle che cosa sarebbero i gli iconici dischi volanti è la moda degli anni 80 eccetera naturalmente sui grigi si può sopporre questo qua visto che si è ipotizzato che tutte le razze extraterrestri menzionate siano come animali terrestri l'aspetto intendo tipo se rappresentiamo i grigi qua sarebbero delle rane evolute a umanoidi e non umani umanoidi perché il termine umanoide significa un essere che ha caratteristiche simile a noi umani umano è quando è proprio simile a noi e visto che stiamo parlando sui grigi sono anfibioidi perché la categoria è degli anfibi una sorta di rane voluta e questo è un esempio di come sarebbero rappresentati e poi se guardate bene ci somiglia propriamente non dalla testa ma anche dalle mani chiamiamo le mani no zambe visto che hanno questo aspetto sono identici le rane non hanno le dita lunghe e pensate al film di eliot e ti telefono casa con le dita lunghe non ce le hanno le rane ecco il puzzle quindi la maggior parte delle razze extraterrestri rappresentate sono una sorta di animali di una versione evoluta però che provenienti da altri mondi poi naturalmente tutti si pongono questa domanda anche gli scienziati stessi se l'universo è abitato dove sono tutti quanti e questo risponde al paradorso di erico fermi che ovvero se ci sia vita da qualche parte come mai non l'abbiamo trovata e quindi si possono fare merit ad especulazioni però ci sono due conti un conto è pensare che la vita possa esistere da qualche parte nell'universo considerando le distanze un altro invece è pensare che queste civiltà ci facciano visita qua sulla terra però giocare a nascondino sarebbe una cosa ridicola come degli esseri evoluti tecnologicamente avanzati vengono qua si fanno vedere sodi alcuni e poi partono e se ne vanno via o si presentano o ci invadono queste sono le cose più comuni no allora per non dilungarmi troppo torniamo a parlare riguardo al festival di san remo riguardo la scenografia però in una fonte qua l'ha detto eh saremo 2024 la scenografia futuristica che divide il pubblico manga sempre meno all'inizio del festival del 74esima edizione oltre al cast degli artisti elemento fondamentale dell'atmosfera magica del palco dell'ariston nelle ultime ore è circolata su x la foto della scenografia visto x tipo una trama conosciuta x files ovvero qua diciamo che non ne ho conoscenza di questa serie però ne ho sentito parlare nei commenti o da amici qua x files qua di questi due investigatori a trovare prove di attività extraterrestre sulla terra e roba del genere ma però della serie non ne so niente la foto della scenografia di quest'anno che ha suscitato diverse reazioni tra gli appassionati infatti la scenografia ideata da gaetano e maria chiara castelli si presenta come un'opera futuristica che sobria il pubblico sui social non ha potuto fare a meno di commentarla ci sono colori che la paragonano a un alieno mentre altri non notano molto differenze rispetto agli anni passati non sembra cambiato molto rispetto agli ultimi anni perché alcuni dicono che sia la solita astronave dell'anno scorso no assolutamente è cambiata la scenografia ve l'ho pure evidenziato visto poi se guardate bene propriamente al volto di del classico alieno domino verde a parte scherzi non che sia una sorta di illusione ottica degli occhi come ti fanno vedere le cose ma può essere poi ognuno pensi ciò che vuole io sto soltanto approfondendo riguardo alla scenografia che poi parte la scenografia parte il volto di un alieno sentite il pubblico cosa ha detto alcuni hanno detto un insetto altri addirittura nel satanismo il volto del serpente ah davvero a me non sembra mica il serpente gli occhi sono così enormi ma perciò ora i serpenti hanno occhi così grandi poi altri altri dettagli più intimi tipo le tube di falloppio quello che hanno insomma le donne nell'utero no dove ci sono gli ovuli perciò tante fantasie a paragonare la scenografia parte il volto di un alieno e che volete che faccia il pubblico così si è espresso visto che lì non hanno detto che cosa rappresenti il festival del 2023 hanno detto un'astronave ma qua che di che non dice niente e la mostra così e basta il pubblico ovviamente prova a indovinare che cosa sia perciò dice da qualunque cosa anche le cose più assurde però a parlare di alieni per curiosità l'ho scritto a sanremo non è che mi ha dato la scenografia ma bensì il testo riguardo gali casa mia chiamato e adesso vi mostrerò una serie di screenshot riguardo al cantautore con l'alieno che si porta da presso qua fonte del ansa punto it saremo gali sul palco con un alieno ha sentito parlare del nostro pianeta il brano casa mia sarà una conversazione con l'extraterrestre a dire il vero anche mi è piaciuto e mi ha fatto pensare meno a riguardo al come sia la scenografia ho lasciato perdere mi sono dedicato al festival e i vari brani che non è non è che sto dicendo che mi piaci molto di più il testo casa mia di gali perché ci sono altri brani tipo tuta gold un ragazzo una ragazza e la noia di angelina mango poi i per me tu per te di jollier sinceramente di analisa che è entrata nella nella testa di tutti a parte scherzi è veramente uno ormai ce l'ha in destra e non se la libera però poi parleremo più avanti sugli altri artisti poi questa cosa riguardo che ha fatto mia madre anzi che ha trovato e qua una storia un passato orribile per per gali che quel significato della canzone significa anche la sua storia allora l'extraterrestre vuol dire la diversità perché se un essere proveniente da un altro mondo non è come te è molto diverso devi accettarlo così per come poi qua anche il genocidio ovvero farsi la guerra e anche rappresentare il suo passato che era povero e poi grazie a facendo questi brani ha avuto successo e si è guadagnato da vivere e trovandosi anche un lavoro infatti qua vediamo lui con sua madre ma a parte di significato delle canzoni ho chiesto aiuto a bing qua la piattaforma intelligenza artificiale di descrivermi significati sulle canzoni poi dopo approfondiremo assieme che cosa significa i significati delle canzoni perché uno quando canta non è che fa una canzone per combarsa ha un significato quando uno canta questo qua un significato davvero equo è quello che dicevo io stop al genocidio perché quello che vediamo a oggi che cos'è farsi la guerra e scannarci fra noi quindi questo si intende per genocidio che ci facciamo la guerra fra di noi e quindi dobbiamo dire basta poi questo qua bello questo effetto cartone con gali e l'alieno ma uno si domanderebbe l'alieno che cosa somiglia e non sono quei classici omini verdi bassetti e non hanno l'aspetto quindi non sono rane ma allora che cos'è dato le fondi che ho cercato è un ipopotamo e visto che vi ho detto la maggior parte degli extraterrestri come aspetto sono animali in una versione voluta però con caratteristiche umanoidi per me non c'è niente di male qua infatti il testo del brano che canta assieme a un alieno rappresenta la diversità questo è il significato poi l'altro al genocidio l'inizio della canzone siamo tutti zombie col telefono in mano significa che ti interessa solo stando col telefono ma non ti preoccupi degli altri dei problemi seri stiamo parlando della prima serata giusto e questa è la classifica clara san giovanni fiorella mannoia la seid i rama gali negramaro analisa mammut di odato loredana bertè gioliere alessandra amorosa i decolors angelina mango il volo big mama ricchi e poveri emma rengan e neck mister rain e bbc r 44 gazelle danger d'amico rosby lane sandy francesi fredde palma mannini alfa e il tre questi sono i concorrenti della prima serata e inoltre abbiamo discusso riguardo alla prima serata adesso passiamo alla seconda serata allora nella seconda serata la una cosa parecchio importante questa qua sembra qualcosa di visto l'anno scorso si la rappresentazione di roberto benigni ma solo che quest'anno non è stato roberto benigni ma qua l'artista scolano torna in scena dopo due anni che ha avuto problemi qui poi ha avuto anche la calvizia infatti aveva una parrucca io l'ho visto il festival infatti aveva la parrucca vero uguale quando se l'è tolta aveva i suoi veri capelli come la parrucca tolta ed è guarito un cantautore forse è meglio che leggiamo qualche articolo vero per esprimermi meglio che forse qui non capite bene vediamo se riesco a trovare qualche fonte è qua leggiamo qualcosa è meglio nella seconda serata del festival dell'aristo si prepara a riabbracciare la amato pianista compositore direttore dell'orchestra italia dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo a levi salirà sul palco per tornare si birsi al pianoforte sarà testimonial della sua battaglia portavoce di coloro che si trova nella sua situazione ha spiegato amadeus parlando della sua attivissima ospitata di stasera ripercorriamo assieme tutta incredibile caria di questo mostro sacro delle sette note questa sera in occasione della seconda serata del festival si prepara a riabbracciare giovanni allievi il pianista composito e scrittore diretto dell'orchestra italiano dopo due anni di assenza di cure per un mieloma multiplo salirà sul palco per tornare a esibirsi al pianoforte è nato ad ascoli in cenno il 9 aprile 1969 studiato presso il conservatore francesco morlacchi di perugia il conservatore giuseppe verdi a milano nel 97 si laurea in filosofia nel 91 tempio l'obbligo di leva della banda musica dell'esercito italiano giovanni musica la tragedia le troiane di europide rappresentata dal festival internazionale del dramma antico di siracusa vince il premio speciale poi uno dei compositori più profici che assi che esistano continua la sua carriera musicista del profilo 2012 13 15 17 di 19 21 e anche un profilico scrittore avendo il pubblico di 7 lì pubblicato ben sette libri il primo è stato l'autobiografico la musica in testa uscita per rizzoli nel 2008 nello stesso anno sempre edito da rizzoli poi dal 2018 al 21 pubblica tre libri della casa editrice è sposato e padre i due figli di essere effetto dal mie loma a il 18 giugno 2022 nel lugno 2022 giovanni allievi è colpito da una grave lutto familiare la sorella maria stella viene trovata senza vita in casa poverino dai mi sta dispiacendo guai chi si alzarda a ridere ci tassendo un bolone perché così non è giusto prendere in giro soprattutto che ha problemi e vi ricordate nel dilemma della festa delle donne che a parte la manifestazione alla gente non gli importa nemmeno degli altri problemi nemmeno quelli seri addirittura associare la guerra israele e Kiev qua in Ucraina che stia soltanto qualcosa di videogiochi facendoci credere che sia vero in realtà invece un'illusione che qualcuno stia giocando videogiochi e poi manda la redazione e qua ecco il gioco ma veramente vi vengono tale fantasie mentalmente da malati ritardati comunque tornando al discorso del compositore continuiamo il 27 dicembre 2011 è stato insignito della nomina cavaliere al merito della repubblica è stato l'ospite d'onore della dodicesima si edizione della giornata laureato organizzata dall'università macerata ateneo fresco a cui si è laureato con l'ode in filosofia nel 98 è stato ospite al gifoni film festival dove ha ricevuto il gifoni award gli è stato dedicato un asteroide nel 2017 è già stato attribuito alla camera dei deputati il premio america della fondazione italia usa del 2021 ha avuto il titolo di ambasciatore e poi nelle storie su instagram pubblica sul profilo di instagram nelle scorse ore ha pubblicato numerosi video in cui prima ha mostrato dei fan di essere in viaggio verso saremo e poi all'arrivo ha filmato le inconfondibili palme san remisi salutando la città dei fiori la location storica del festival della canzone italiana bello infatti ha fatto tutto un monologo ed è stato davvero commobente poi naturalmente di cose bizzarre se ne sono viste a parte la scenografia che sia un volto dell'iconico minoverde abbiamo qualcos'altro che mi ha fatto parecchio ridere e anche scettico su che cosa fiorello intelligenza artificiale che cosa intendo dire questo allora prima non ho capito totalmente che cosa volesse combinare che ha parlato con amadeus all'improvviso si blocca poi c'è la diretta sua e ha detto tutto quando confessando non ero io quello è un mio clone mi dispiace non l'avrei mai fatto eccetera se volete potrei mostrarvi anche il video sempre se non mi faccia a causa di copyright quello è il problema però prima vi mostro lo screen quando avevo fatto allora qua forse potrei leggervi alcune fonti allora ecco qua visto lo screen fiorello sorprendete saremo un'uscita di scena dal robot eh la scenata che ha fatto vi riassumo anche qualcosa esatto che cosa intendo dire qua siamo nel mio canale youtube dove ho fatto parecchi video e guardate qui al centro esatto fiorello abbiamo roma ovvero che ha detto di aver visto un ufo un oggetto identificato ma bello identificato ad essere un disco volante che mi ha fatto ridere e anche indagare sulla questione se il video ve l'ho mostrato qua e il 3 agosto l'ho caricato quindi l'anno scorso ha fatto sta scenata a roma è scritto davvero fiorello ha visto un disco volante a roma praticamente ha fatto una bella scenata col pubblico ha detto sono senza parole la gente qua era tipo impressionata ma vi pare che ci creda davvero se veramente era un'astronave aliena tu sei hai altre reazioni particolari di sicuro quella gente è stata pagata per essere così se fosse veramente un'astronave aliena a gente così che vi ho descritto varie reazioni uno primo sareste indiusosmente poi gli altri potrebbero avere la fobia terrorizzati questa è l'evidenza è un falso ma non mi chiedo se sia stato un drone bello camuffato o un montaggio con la computer grafica perché tanto queste cose li puoi fare facendole passare per vere e poi naturalmente è logico che la gente non ci creda certo fai talmente cose false chi ti crede ormai l'unica cosa di verità sono soltanto quello ciò che vedi e quindi le foto o i filmati non sono sufficienti che stanno guarda no per scusa fammi vedere fammi vedere fammi vedere ma cos'è no ma cos'è guarda ma che cavolo è oh 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 ma cos'è guarda che vedi non fanno le spia che cazzo no ma che vedi ragazzi io ho i drividi ti giuro ho i drividi è andato? è andato? sei visto? sei visto? ma si può rivedere? e adesso lo sai non si è giunto no ma ragazzi ho capito ma voi l'avete visto? l'avete visto? si ma si l'avete visto là? si ma sei lì? ma sei lì? là era? quadra lì quadra lì e ma non c'è più un cavolo ma questo registro questo qua registrato? si sei visto? ho visto sul momento sei visto? sei visto? io ho visto dal monitor dal monitor è andato in onda che lo sia andato in onda si 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 c'è ragazzi io sono senza parole c'è la distrazione naturalmente come vi sto mostrando in questo piccolo riassunto di questo video questo è stato fiorello all'improvviso e tutta la gente della rai si accorgono di qualcosa di insolito nel cielo naturalmente il commento che puoi fare che cos'è? non è che vai alla conclusione che sia qualcosa di alieno prima pensi se sia qualcosa di militare visto perché l'ha battuta ha detto una cosa è un pallone spia qua eccetera e poi all'improvviso l'oggetto è scomparso come se niente fosse naturalmente che dire del pubblico uno può dirmi ma come c'erano le persone e mio caro purtroppo è quello che voglio farti credere se veramente è qualcosa di alieno quello che si è visto sopra i cieli di Roma penseresti che la gente sia in questa maniera? prima di tutto le reazioni sarebbero ancora parecchio entusiasmanti poi per chi ha la fobia faranno i pazzi a spaventarsi oh non ci mandano aiuto aiuto per strada come dei babbei eh qual è l'evidenza questa qua no? semplice è falso si vede sarà vero le reazioni erano più credibili inutile che inquadri la gente non ci crede nessuno per quanto riguarda l'oggetto è fatto benissimo ma la domanda spontanea è dire che se ero un drone camuffato oppure era proprio un bel video montato con la computer grafica che poi per quanto riguarda la scenata di Fiorello tipo robò infatti si accoppia con Loredana Bertè perché? perché nel testo della musica chi va a vedere il video vediamo tanta intelligenza artificiale quindi tema fantascientifico ma a parte la fantascienza l'intelligenza artificiale in questa maniera a rendere il robot simile a noi umani non lo è così tanto infatti il dubbio mi è andato spontaneo dopo la scenata qua del disco volante a Roma mi è sembrato il dubbio se fosse veramente un suo clone o fosse qualcosa così ma poi io ho pensato ma a parte gli scherzi non è più fantascienza che crei dei robot e li rivesti con la nostra pelle umana non lo è perciò siccome ha la sua carriera da comico è difficile dire se sia stato vero o meno fatto sta che ci ha fatto ridere la sua comicità e che dire proverò a farvi vedere il video della scenata che ha fatto Fiorello no Simona come stai tutto bene è l'ultimo capito posso fare quello che voglio posso venire qui a perdere tempo poi lui dice che io non devo dire il ciao non puoi salire non puoi salire poi non dice che non posso salire no non puoi ma secondo voi io aspetto sabato per salire sul palco no è un patto non puoi salire ma non puoi salire Ibra aspetta guarda non solo salgo ma riscendo devo salutare Ibra ragazzi no stai fermo lì io qui e tu lì vieni 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 oh signora guarda non inquadrare i piedi guarda che roba adesso si guarda che roba ciao Ibra ciao complimenti salve signora io posso arrivare a Massimo fino a qua Massimo il fatto è questo però stasera no non puoi salire no mi avevamo una eh eh buonasera guarda che sei ti vedo strano devo dire una cosa intanto ti devo fare i complimenti che stai conducendo alla grande e soprattutto mi piace questa barra mi piace soprattutto quella cosa là secondo me da qui a venerdì qualcuno ci rimane secco sì guarda che la lingua cioè la lingua com'è? la lingua si chiama la lingua sì cioè vabbè va veramente la lingua si si alza si abbassa mettiamoci così sei tu che ti sei fatta ma veramente si chiama la lingua sì l'abbiamo chiamato comunemente così la lingua non sa io sono qua così però sei stranissimo e hai disobbedito io devo fare dopo devo fare le due sì le due eh certo finisco le canzoni e io ti do la linea e mi dai la linea esatto però non dovevi salire sul palco era un accordo sono salito ormai beh no mi avevi detto posso raccontare posso fare cose comiche? puoi fare quello che vuoi ma sei qui faccio una cosa comica eh ehm sai cosa ehm sai cosa dice l'ultimo dei mohicani ehm cosa dice l'ultimo dei mohicani? non lo so aspettatevi è una mazzoletta da bambini eh eh sai perché le tende piangono? perché le tende piangono? eh eh perché sono da sole eh ma è strano ragazzi ma che ha? eh ma che hai? ma che stai guardando? oh ma ma che sei bloccato? ma che sei bloccato? è fan ragazzi sei bloccato sei bloccato e ve l'ho fatto vedere purtroppo a causa del copyright che non mi spiego il motivo questa parte è stata censurata dal canale ma non hanno voluto ma lo spiego a parole allora qui dice Fiorello che non era lui era un suo clone artificiale e poi come vedete qua dalla foto ha chiesto portatemelo via e poi ha confessato che non sarebbe salito sul palco prima di sabato quindi che posso dire cari ragazzi miei che la trovata di Fiorello potrebbe essere vera oppure falso come ha fatto quella sul disco volante a Roma però a parte scherzi che ci sia qualcosa di fantascientifico che abbia fatto qua in questa cosa riguardo all'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale riguardo a creare degli umanoidi e rivestirli con la nostra pelle umana non è tutto fantascienza è reale e perciò non so che dire voi che ne pensate era vero che Fiorello fosse un robot o ha fatto soltanto una scenata comica leggiamoci qualche fonte dalla stampa un Fiorello creato dall'intelligenza artificiale è salito sul palco violando l'accordo con Amadeus di non calcarlo prima di sabato la gang suscita l'entusiasmo e le risate del pubblico il Fiorello non umano si prende gioco dell'amico conduttore figurati se io aspetto sabato per salire sul palco dice imprangendo la regola non potevi salire sei stranissimo e hai disobbiedito lo rimprovera Amadeus e all'improvviso Fiorello si paralizza immobbia che succede? si preoccupa in collegamento appare un altro Fiorello che spiega che quell'altro a lui così somigliante è stato generato dall'intelligenza artificiale questo video di proprietà di Rai Festival di Sanremo 2024 end questo qua la fonte e questa era la seconda serata da discutere che dire di Fiorello ai ci credo poco visto che si dedica alla carriera comica poi del fatto del disco volante a Roma non mi dite perché sia appassionata ci abbia creduto assolutamente quello che faccio io è usare la logica e indagare quindi non è che credo la qualunque cosa che sento quindi no figuriamoci questa cosa qua che sia stato un robot generato dall'intelligenza artificiale anche se non sia così fantascientifico creare degli umanoidi e rivestirli con la nostra pelle è tutto vero quindi non so che dire liberi di crederci ma per me siccome Fiorello è un comico qua siciliano e della mia amata terra c'è poco da crederci non bisogna scherzare troppo con il lupo perché poi se il lupo c'è per davvero nessuno ti crede comunque questa era la seconda serata che hanno cantato Fred De Pal Marrenga Ennec Alfa Danger D'Amico Il Bolo Gazelle Emma Mahmood Big Mama The Colors Jolier Loredana Bertè Anna Lisa Irama Clara Gali La Sed Mr. Rain Diodato Rosbillen Bdink R44 Sandy Francesi Alessandra Amoroso Il 3 Angelina Mango Fiorella Mannoia San Giovanni Mannini Ricchi e poveri e Negramaro questi erano della serata però quelli della seconda serata che abbiamo visto è questa qua è lo di Giovanni Avenili così si chiamava è quel poverino che ha avuto una malattia quel cantautore e naturalmente le cose più bizzarre è riguardo a Fiorello che ha fatto la scenata del robot così e come vi ho già detto se io ci credo o meno non lo so nemmeno io fatto sta che ha fatto ridere a meno questo ha strappato un sorriso passiamo alla terza serata ma che cosa sono questi due individui allora alla mia sinistra abbiamo Pino Mango cantautore e chi è quella bambina ecco la nuova giovane cantante Angelina Mango perciò faceva carriera per conto suo che cantava assieme a suo padre infatti non vi dico questo anzi sì ve lo dico nella terza serata è stata lei la regina riguardo che abbia cantato la rondine da parte di suo padre l'ha cantata benissimo e anche quando tipo cantava è come se sentiva suo padre a canto che infatti ci hanno fatto anche un anime carton che adesso ve lo farò vedere e se è possibile anche farvi ascoltare la canzone spero che non mi faccia la causa di copyright esatto questo qua quello che vi ho detto io l'anime in carton il fantasma di Pino Mango beh è fantasma infantile chiamiamolo spirito e di suo padre come se fosse accanto a lei nonostante tu sia la mia rondine andata via sei il mio volo a meta sei il mio passo del vuoto dove sei dove sei mi è venuta di cantarla perché è bella questa canzone e naturalmente la reazione come cantava è come se si sentiva suo padre accanto a lei e si commoveva e piangeva perché purtroppo Pino Mango è morto quindi Angelina è con suo fratello e con sua madre qua così vive 22 anni se volete sapere qualcosa su Angelina Mango è anche la prima volta che canta perché la prima canzone che è uscita è stata sì l'estate 2023 le lunghe giornate la pubblicità sì giusto 2023 ok e poi le altre quindi ha poche canzoni nel suo caso se volete possiamo andare a vedere i suoi brani musicali perciò è nuova prima la giovane cantante era Francesca Michelini adesso invece è Angelina Mango infatti sono queste qua e basta visto Mango ci pensiamo domani che io me lo ricordo fa così le lunghe giornate la pubblicità non riesco a ricordarmela però bella poi l'altra stile napoletano Angelina Mango che to dico a fa anche bella poi quella lì del festival che ha cantato questa qua la noia bene vi ho mostrato quello che sappiamo finora di nuovo su Angelina Mango direi adesso che vi mostro la canzone riguardo alla rondine bene continuando hai cantato bene la canzone della rondine Angelina e scommetto che tuo padre è stato a fianco anche mentre cantavi eh sì se pensi che lui sia stato orgoglioso di te ci puoi scommettere la tua canzone è stata bellissima comunque parlando si ve l'ho fatto ascoltare l'audio un pochino prima all'inizio mi aveva fatto il copyright e qui mi potrei lamentare per quale motivo ah quindi perché pubbliche una canzone qua cioè ma non avete mai sentito parlare dell'articolo 21 qui ci vuole Roberto Benigni dell'anno scorso libertà proprio di pensiero quindi uno non si può esprimere nemmeno la divulgazione del brano qua ma certo che fate schifo ah comunque tornando a noi riguardo ad Angelina Mango con la canzone della rondine è diventata lei la regina della serata perlomeno nonostante tu sia la mia rondine andata via sei il mio volo a metà sei il mio passo vuoto dove sei l'omaggio della figlia Angelina perché questa qua questa canzone la rondine aveva fatto da suo padre Pino Mango e questo era della terza serata perlomeno Candato Reng e Neck insieme Big Mama Gazelle Danger D'Amico Il Volo Loredana Bertene Gramaro Mahmood Sandy Frangesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandro Amoroso Alfa Irama Gali Annalisa Angelina Mango Jolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri De Colors Mannini La Sand Mr. Rain Fred De Palma San Giovanni Clara e Brink in 44 Roswell Ok E questo era quello che abbiamo visto della terza serata Naturalmente la classifica finale è qua E che cosa c'entra questo signore Beh è una pubblicità ma guardate in alto Sì Angelina Mango Vince Vinceremo 2024 Quindi la serata finale è stata lei è la vincitrice E adesso vi mostrerò degli screenshot ma anche a qualcuno che non gli sia piaciuto e vi spiegherò dei bei motivi e anche di esagerazioni cospirazione al festival ma tranquilli vi chiarirò tutto quando Ah naturalmente propriamente durante la vittoria sua e qua è circolata in rete io ci ho scommesso perché perché vedendomi il festival mentre cantava la noia col suo vestito era inciambata era e addirittura io ho pensato quest'ora i giornalisti si metteranno a farci un articolo e infatti scommetterci ho indovinato eccolo qua questa è la repubblica ma ci saranno altre fondi Angelina Mango cade sul palco mentre canta la noia alla finale del festival e poi vince se volete posso mostrarvi il video se riesco a trovarlo e sperando che non mi facci causa di copyright allora si abbiamo visto il video si 8 secondi sono più che sufficienti perché purtroppo a questi qua del copyright non gli piace insomma beh avete visto tutti e chi si è visto il festival l'ha visto si è stato un po' imbarazzante però alla fine ha vinto il festival si è anche scusata per l'incidente ma a parte la canzone mentre cantava l'ha anche citato mentre in giambo in giambo vigo la noia e praticamente veramente in giambata eh a parte scherzi della canzone poi naturalmente qua grazie mamma di aver detto bravissima e io ho anche commentato no la reazione quale commentato se lo meritava e poi cos'è quest'invidia uno mi direbbe ma di che cosa stai parlando se ha vinto eh mi dispiace purtroppo per alcuni non ha certo certe cose ha cantato davvero bene la noia vince il 74esimo festival di Sanremo ma purtroppo ci sono anche reazioni dementi che ci hanno riso che io non capisco per quale motivo una giovane ragazza addirittura si è fatto una cospirazione di aver truccato la giuria il televoto e questo ne approfondirò perché sarei molto curioso tanto sapete che a me piace indagare e approfondire e spiegare e smaschiero questo spauracchio del complotto a Sanremo 24 potete chiamarmi l'anticomplottista se preferite comunque lei non se lo aspettava se volete posso farvi vedere il video che ha vinto la serata qua anche vediamo se ci riesco se no niente vince la settantaquattresima edizione Angelina Marco Angelina Marco vince il festival di Sanremo di Sanremo bene vi ho fatto vedere il video si un pochino qua 18 secondi ci sono riuscito perché il resto ho dovuto tagliare perché al quanto pare la Rai se fai cose così ma manco se registra un film ma è assurdo questa cosa mi fa impressione del Giro d'Italia ah perciò registri il Giro d'Italia e non puoi pubblicare il video ma per quale motivo è assurdo comunque adesso questo qua adesso la classifica finale è questa qui giusto qui la prima Angelina Mango secondo posto Jolier Anna Lisa Gali Hirama Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Moroso Alfa Gazzella Il 3 Diodato Emma Fiorello Fiorella Mannoia The Colors Mr. Rain Sandy Francesi Negramaro Danger D'Amico Ricchi e Poveri Big Mama Ross Villain Clara Renga E Neck Mannini La Sede 44 San Giovanni Fred De Palma questa è la classifica ma che cosa mi riferivo prima sul complotto e cospirazione a Sanremo e perché parli di questo viaggio perché purtroppo alcuni la pensano così che sia stato un complotto addirittura il satanismo proprio al festival e ho parecchie cose da discutere e niente ragazzi purtroppo che posso dire il video mi verrà troppo lungo perché le cose che dovrò spiegare sono parecchie dove parlerò riguardo a una presunta cospirazione al festival di Sanremo i malintesi quale accuse su Angelina Mango o chi vede simboli satanici qua proprio al festival eccetera eccetera e anche spiegarvi anche il significato dei brani qua degli artisti della classifica da 1 fino a 7 da Angelina Mango a Loredana D'accordo quindi questa era la conclusione della prima parte e di Sanremo 2024 non ho altro da dirvi e ci sentiamo nella prossima parte ovvero la seconda D'accordo